Musica E signori benvenuti nella parte 51 di questo Watch Dogs 1 Forza inarrestabile, abbiamo eliminato i capi della sicurezza nella missione scorsa Andiamo a vedere, ancora una volta, Taibon cosa ci chiede di fare La milizia di Paun è composta da agenti a contratto, quindi se fanno casino perdono il lavoro Se crea un diversivo loro mandano altri uomini, quindi meno uomini alla Bloom Quindi mandare la Bloom col diversivo, fantastico Vediamo un po' il percorso di Taibon Questi qui seguono un percorso fisso Per me è una fortuna, sì Ok, intanto dammi questa macchinina qua che schifo non fa Elimina il convoglio Ok Il convoglio Lo elimino molto volentieri Eh, civile ferito, I'm sorry Manco scalfito Merda, non l'ho colto Ma perché rinforze, ma sei sei È proprio stronzo, eh, ok Ci sono il veterano, uno l'abbiamo fatto Qualcuno abbiamo neutralizzato, non so chi, ma qualcuno Vieni qua Eh, che palle si attacca così Vabbè, l'ho neutralizzato però Uccidere tutti mi pare abbastanza atopica come cosa Quindi magari scappare potrebbe essere una soluzione Ok Ci siamo Fuori È scoppiato qualcosa? Eh, sì, sei scoppiato tu proprio Prendetelo, ora Questo è praticamente un convoglio criminale Sotto mentite spoglie Colpitelo E cazzo Magari lanciarsi in mare Potrebbe essere una soluzione Chi lo sa Ci provo Guida 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 Non compare il tastino però Io me ne vado così Bacioni Eh, la nave sotto il ponte Non potevo rifiutarla ragazzi Sì, sì Voi fate il percorso in macchina L'ho perso Occhi bene aperti Track Adios Forza inarrestabile Portata a termine Tibone è arrivato alla Bloom E noi siamo Con la coscienza a posto Alla Bloom sono disorientati È la nostra occasione Merda Perché non ti ho incontrato anni fa? Le cose sarebbero andate Guarda Ci penseremo a Chicago Hai già pronto il virus? O meno Più o meno? Più Funzionerà Credo Sei sicuro? Sto entrando nella gabbia dei leoni Non fare scenate Tu raggiungi Funzionerà E tu saresti la leggenda Di cui parlava Clara La che? Chi? Lascia stare Sei una pippa No, non è vero Vabbè ragazzi Parte 51 Portata a termine Ci vedremo per la 52 Che sarà La terza missione Dell'atto 3 L'atto 3 comprende 6 missioni E ragazzi Grazie Della visione Alla prossima